Grand Marnier, il liquore. Che faticaccia la nuova casa. Eh sì, questo sporco grasso non va via. Prova Mastro Lindo, ha una forza Mastro Lindo. Guarda, su questo sporco grasso che viene dai fornelli, versiamo Mastro Lindo pure. Vedi, lo sporco si è sciolto e il pulito splende. Prova io. Che forza, che splendore, che gioco. E che profumo di limone. Mastro Lindo, che potenza, che splendore. Ehi, ma chi sono? Se un dado fosse troppo forte, sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado. E il tuo pollo? Di dado. Dado Knorr è un dado che sa fare il dado. Perché arricchisce il sapore dei tuoi piatti senza coprirlo. E papà, guarda, un pollo! Dado Knorr, un dado che sa fare il dado. E tu, vieni nel paradiso del cacao! Giacomo! Giacomo, con il cacao! Giacomo, è la sola! E il riconverso di cacao. Tanto cacao! Giacomo, girano! Giacomo! Mi potete fare la testa del cacao Paolo e Luca si sporcano così tanto che la mamma di Paolo lava la sua maglia in acqua calda La mamma di Luca invece con Ariel a mano in acqua fredda Alla fine del campionato Paolo è un azzurro scoloritro Ma Luca con Ariel ha difeso i colori della squadra Ariel, fredda lo sporco, accarezza i colori E ora è, la mia frana dice il te Orologito, il goloso orologio che ti regala da lito Se tu mi dai quella favola io ti do salvi coca e no coca Orologito, il goloso orologio che ti regala da lito Ehi, sei proprio bravo, ma riesci a succhiare una frugioi senza masticarla? Io? Puoi scommetterci Alle morbide frugioi, tu resistere non puoi Devi, 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 devi Masticar Frugioi morbide fruttose, nessuno resiste senza masticarle